Allora, vado molto veloce con l'introduzione. Maurizio è segretario nazionale dell'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti, ANESV, e oggi ci parla del marketing esperienziale nei parchi avventure e parchi divertimento, che sono uno degli esempi migliori per parlare di marketing esperienziale online. Buonasera, sono Maurizio Crisanti e sono qui a Medioera perché quest'anno Medioera parla di esperienze e, come diceva Paolo poco fa, il parco di divertimento è sicuramente un prodotto estremamente legato all'esperienza. È molto, veramente emblematico e tra l'altro nei parchi di divertimento si fa marketing esperienziale da quando forse nessuno aveva neanche teorizzato l'esistenza del marketing esperienziale, ma di fatto è fisiologico. Prodotto o esperienza? Vediamo un pochino come un prodotto può essere comunicato in termini di esperienza. Qui abbiamo una pagina pubblicitaria di un profumo, è una pagina che come vedete, come tutte le pubblicità, è bidimensionale, sicuramente la foto è accattivante, stimolante, evocativa, però siamo davanti a una tipica pagina di una rivista femminile. L'offline comunque funziona ancora e funziona benissimo su questo tipo di prodotti, quindi a tutti noi innamorati del digitale ogni tanto dobbiamo ricordarcelo che anche l'offline ha molto da dire ancora. Questa è un'altra pagina di una rivista femminile, ma qualcosa è cambiato. Qui si propone non l'immagine, una comunicazione bidimensionale del prodotto, ma si propone un'esperienza. Come vedete è stato inserito una sorta di campioncino, quando si solleva la strip, dentro c'è un tampone imbevuto di profumo, è un profumo costoso, quindi subito invade la stanza, prende subito la persona che ha davanti questo annuncio e in questo modo i creativi di questa casa di profumi hanno trasformato la comunicazione di un prodotto nella comunicazione di un'esperienza. Non succede solo nei profumi, abbiamo tutti l'esperienza dei centri commerciali, peraltro il centro commerciale si sta trasformando in una sorta di parco di divertimenti, lo vedremo dopo. Nei centri commerciali i negozi sono cambiati, hanno tutti le porte aperte, cercano di convincere le persone ad entrare, vetrine, colori, musica, suoni, tutto è curato, illuminazione, è tutto curato per rendere l'acquisto una vera e propria esperienza. Qui ho messo la foto di un Apple Store, è un esempio classico, le porte sono aperte, non ci sono vetrine ma solo vetri a schermare un pochino gli spazi, si entra e si può addirittura toccare subito il prodotto che è nei desideri di molti di noi. In pochi minuti si ha in mano ciò che si è desiderato per tanto tempo, lo si usa, mentre lo si usa si avvicinano dei collaboratori del negozio che cominciano a ingaggiare una conversazione con il potenziale cliente e l'acquisto di un prodotto di elettronica diventa un'esperienza. Giorni fa sono entrato a Roma in un negozio di elettronica un po' vecchia maniera, famoso per avere degli sconti sui computer, mi sono trovato un bancone con delle persone dietro al bancone, scatole di computer, ogni volta che si chiede posso vedere il computer, possiamo accenderlo eccetera, nasce il problema perché insomma chiaramente lo devi tirar fuori dall'imballo, poi forse qualcuno non lo comprerà più eccetera. Qui siamo qualche migliaio di anni più avanti dal punto di vista dell'esperienza dell'acquisto. Come percepisce questo cambiamento il consumatore? Il consumatore acquista una serie di prodotti o servizi, pensiamo a una commodity, mi viene in mente, non so, il pieno di benzina che facciamo alla nostra automobile. Se io chiedessi a voi dove avete messo benzina 30 giorni fa probabilmente non ve lo ricordereste. La commodity di fatto è indifferenziabile, non ci stimola particolarmente un'emozione, assolutamente no, fare benzina non è mai un'emozione. Il prodotto quando andiamo nel supermercato riempiamo il nostro carrello di prodotti, anche lì possiamo avere sì una percezione di qualche esperienza legata magari al packaging, al fatto che sul prodotto compaia un concorso, una promozione, ma insomma riempiamo il carrello e abbiamo dei beni che francamente non ci danno grandi emozioni. Un servizio, stamattina sul presto sono arrivato in ufficio, ho incontrato le signore delle pulizie che nel frattempo ovviamente uscivano perché entrano prima di noi, anche lì di questo servizio io francamente ho percezione solo quelle due o tre volte al mese che mi capita di incontrare il personale della ditta di pulizie che esce, ma per il resto che il mio ufficio sia pulito è un fatto sul quale non ho mai riflettuto, mi sembra una cosa normale e non mi dà francamente nessuna emozione. L'esperienza invece, la caratteristica dell'esperienza è di essere memorabile, se chiediamo a un ragazzo, un adolescente di raccontarci l'ultima sua visita in un parco di divertimento, anche se questa fosse avvenuta due o tre anni fa, sicuramente lui saprà dirci molto di questa esperienza. Il prodotto quindi diventa esperienza. Nespresso, in Italia tutti la mattina quando ci alziamo andiamo in cucina e ci facciamo il caffè, la maggior parte di noi. Nespresso è stata capace di trasformare la semplice azione di fare un caffè in una vera e propria esperienza. Iniziamo dal packaging, le cialde hanno una palette di colori eccezionale, sono molto gradevoli al tatto perché è alluminio satinato molto bello, sono belli anche i contenitori delle cialde. La cialda viene infilata in una macchina per caffè che è un vero e proprio oggetto di design, spesso in cucine molto brutte o superate, è l'unica cosa bella che si nota quando si entra. Si spinge un bottone ed esce il caffè. Non ho dovuto bagnarmi le mani la mattina presto con l'acqua fredda del rubinetto per riempire la moca, mi trovo in mano una tazza fumante di caffè, ho speso circa 35 centesimi che non sono pochi, però ho vissuto in qualche modo un'esperienza. Pensiamo a Starbucks, molti di noi avranno fatto colazione o comunque consumato prodotti, quando noi prendiamo il caffè in un bar italiano entriamo, se vediamo la fila alla cassa ci dà anche fastidio, vorremmo fare subito, ci avviciniamo al bancone, ci viene servito il caffè, io personalmente lo prendo e scappo, non mi soffermo, non è un'esperienza, è molto buono il caffè ma l'esperienza in sé di acquisto francamente molto spesso è anche deludente. Starbucks non ha più il bancone, quindi sono costretto a fare la fila e come avrete visto la faccio diligentemente, ci metto anche 5, 8, 10 minuti per ordinare la mia consumazione, ne aspetto altrettanti per averla, non la posso consumare al bancone perché il bancone non c'è, ci sono dei tavoli, c'è il wifi, uno dei primi casi in cui il wifi libero è stato installato in un pubblico esercizio, il mio caffè che costa non a caso 3 volte della tazzina di un caffè in un bar italiano diventa esperienza. L'ultimo esempio, Italy, è un insieme di ristoranti e situazioni di questo tipo, non sembra una cosa geniale ma viene comunicato come esperienza. Io vado ad Italy, vedo delle cose bellissime, alcune le assaggio e vivo un'esperienza. Ho messo la foto della card perché tornando a Starbucks è notizia dell'altro giorno che Starbucks abbia 1 miliardo e 800 milioni di dollari sulle carte prepagate date come regalo dalle persone che hanno regalato queste card. Vuol dire che questa gente di marketing se ne intende veramente perché di quel miliardo 800 milioni sappiamo tutti che ne verrà spesa solo una parte ma Starbucks ha già incassato. Vale la pena trasformare la comunicazione di un prodotto in una esperienza? Il marketing esperienziale è stata tirata fuori questa definizione da consumatore a consumatore. È il consumatore in sostanza che non acquista ormai un prodotto o un servizio solo perché ne ha bisogno ma acquista anche l'esperienza che prova, l'esperienza di acquisto. Il consumatore ormai sceglie un prodotto secondo un approccio esperienziale, non è solo razionale, non è solo la risposta a un bisogno, ho finito il detersivo e devo per forza riacquistarlo, ma sono condizionato da fattori emotivi. Anche nell'acquisto del detersivo io sarò condizionato dal packaging, sarò condizionato da una promozione che magari l'adesivo sul detersivo mi suggerisce di approfittarne. Tutto quindi è orientato ormai alla ricerca di esperienze piacevoli. Ancora, perché vale la pena provare a trasformare un prodotto in un'esperienza? Parliamo di turismo, siamo a Viterbo, città turistica. Il rapporto Trip Barometer 2016, il solito rapporto di Trip Advisor sulle tendenze turistiche, ci dice che tutto è ormai orientato verso la ricerca dell'aspetto esperienziale nel tipo di viaggio che noi andiamo a prenotare o a ricercare. Viaggiare per provare qualcosa di nuovo è un'opzione scelta dal 63% di quei circa 34.000 viaggiatori che sono stati intervistati, il 10% dei quali è italiano. Nel caso dei millennials siamo addirittura al 74%, quindi i giovani cercano qualcosa che li emozioni anche durante un viaggio. Possono essere ovviamente moltissime cose, non solo i parchi di divertimento, ma questo è un fattore che chi fa marketing turistico dovrebbe assolutamente tenere in considerazione. Ancora è comodo, è furbo orientare il proprio marketing a condividere esperienze, perché ovviamente, parlando di social network, è del tutto evidente a ognuno di noi che il consumatore condivida esperienze positive, momenti di gioia, momenti di divertimento, esperienze piacevoli. E questo ovviamente aiuta il nostro marketing. Ci permette anche di differenziare il nostro prodotto. Immaginate due pizzerie, una vicina all'altra, in una si fa la pizzeria tradizionale, nell'altra si decide di cambiare l'allestimento del locale, scenografarlo un po', cambiare l'illuminazione, mettere la musica giusta, un tovagliato adeguato, camerieri che ingaggiano un pochino la conversazione con il pubblico e ovviamente il pubblico, il consumatore si sposterà verso la pizzeria che offre un'esperienza. E poi la comunicazione. Un conto è comunicare un centro massaggi e trattamenti, come ancora ho visto girando per Roma l'altro giorno su un'insegna, un conto è fare marketing di una spa. Si comunica veramente una esperienza rispetto a dei servizi estetici, diciamo. Esperienza. Cosa c'entra con l'inbound marketing? Tutti noi sappiamo cosa è. I marketers fanno azioni SEM per farsi trovare nel momento in cui il cliente sta cercando qualcosa di molto simile a quello che noi proponiamo e nel momento in cui si ritiene che lui abbia una propensione all'acquisto d'impulso. Possiamo usare search marketing, SEO, SEO online, SEO offline, link building, tutto quello che vogliamo. Però l'altro giorno, tre giorni fa, veramente cercavo un luogo dove far pernottare un centinaio di miei associati in attesa di essere ricevuti dal Papa. Cercavamo quindi una casa per ferie, tipicamente gestita da religiosi, questa era l'idea. Arrivo su questo sito posizionato in prima pagina nella SERP per case per ferie Roma. Ora, guardando questo sito non ci vuole molto a capire che qui forse di marketing esperienziale non se ne è e sa molto, tra l'altro questa è anche una bella casa, ha dei bei servizi, ma sul sito il listino del 2009. Ne abbiamo scelta un'altra per una serie di ragioni, ma una probabilmente ci ha condizionato anche francamente il modo di proporsi a livello di marketing. Questa definizione non è mia, l'ho trovata sul web, non mi sono scritto per mia colpa chi afferma queste cose, non l'ho più trovata, però è una frase che mi convince. Si possono fare tutte le azioni di marketing che vogliamo, ma se non si fa leva anche su aspetti emozionali si rischia che tutto sia inutile. Certamente bisognerebbe fare degli A-B test, delle cose del genere prima di affermare apoditticamente una cosa del genere, però io come consumatore dico che francamente di fronte a un sito come quello che ho visto prima cerco un altro risultato da Google. E veniamo ai parchi di divertimento. Walter Elias Disney ha molto a che fare con il marketing esperienziale. Nel 1955 erano già stati prodotti dalla Walt Disney lungometraggi del tipo di Cenerentola e Biancaneve, cose che avevano avuto successo a livello degli Stati Uniti, ma si erano anche diffuse in altri continenti. Walt Disney capisce che è possibile trasformare i personaggi che ormai sono diventati famosi, compreso Topolino che lo era già, in esperienze. Inventa il parco di divertimento e trasforma un giro in giostra in un'esperienza di una giornata all'interno della quale animazione, spettacolo, attrazioni, cibo, tutto è orientato a far trascorrere alle famiglie una splendida esperienza. In America ovviamente le giostre c'erano già il Luna Park di Coney Island del 1905, quindi di 50 anni prima, ma era anche quello un Luna Park fisso, oggi peraltro è riqualificato e gestito da una ditta italiana ed è una meraviglia, però di fatto era semplicemente la proposta di alcuni giro in giostra dove si pagava tra virgolette a consumo come a Luna Park di Viterbo. Lui capisce che si può fare una operazione diversa, mettere un biglietto unico e proporre alle persone un'esperienza, questa è la sua grandezza e parliamo di 60 anni fa. Questi sono i numeri dei parchi di divertimento in Italia, non li commento, vedete 180 parchi tra tematici acquatici del Finari Zoo Safari, 230 parchi avventura, stanno crescendo anche in questo mese, ne stanno aprendo altri 5 o 6, è un trend evidente, 16 milioni e 250 mila visitatori nel 2014 perché la SIAE bontà sua non ha ancora diffuso i dati 2015, ma sappiamo che fortunatamente c'è una tendenza in crescita e poco più di 300 milioni di euro tutti gli anni è il fatturato di questo settore. Cosa fa il parco di divertimento a livello di marketing? Sicuramente da anni, come vi dicevo, la parola chiave è il passaparola, il passaparola offline, quello fisico, perché passaparola è la vita reale, c'è poco di digitale in questo tipo di passaparola. Non è cibo per algoritmi, come è stato detto da Morozov al festival del giornalismo di Perugia la settimana scorsa, tutti noi che scriviamo su blog secondo questo giornalista siamo semplicemente cibo per algoritmi, mi ci metto anch'io perché scrivo anch'io. In questo caso il passaparola è tutto tranne questo, le persone autorevoli si scambiano, autorevoli viste come autorevoli dai propri parenti, dai propri amici, si scambiano un'esperienza e dicono sai sono stato in questo posto, è molto bello. Ovviamente il passaparola è un caposaldo del marketing offline e si basa su testimoni credibili che si scambiano esperienze. Il marketing dei parchi di divertimento ovviamente utilizza il passaparola anche online, è facile immaginare dove i luoghi sono tipicamente i social network e social network che non sono gratis, io a volte con imprese magari un pochino più piccole, meno strutturate, ho il problema di far capire che usare un social network non è prendere il proprio cellulare e mettere un post su facebook dal proprio profilo personale, usare il social network per fare marketing in qualche modo necessita di risorse economiche, anche scarse ma comunque ci vogliono dei professionisti. Nei parchi di divertimento si usa il word of mouth marketing, il passaparola. Ecco, cosa è il word of mouth marketing? È ogni azione di marketing che genera una raccomandazione da parte di un consumatore, lo dice l'associazione americana di questa forma di marketing, c'è un'associazione di parchi di divertimento quindi ci può essere benissimo un'associazione di marketers che fanno passaparola digitale. Ci sono tante forme, queste sono quelle che hanno individuato gli americani. Conversation marketing è quello che si usa da sempre, include anche l'email marketing per esempio che ancora funziona, sembra una cosa un po' vecchia perché molti giovani usano poco la posta elettronica ma vi assicuro che per certi settori è ancora una cosa da utilizzare, si postano contenuti, frasi, auguri, buona Pasqua, buon Natale, che fai oggi perché non vieni a trovarci, si cerca di generare un pochino di conversazione sul web. Viral marketing, questo nei parchi è usato parecchio, si tratta di creare dei contenuti appositamente orientati a diventare virali, quindi in genere si tratta di video, sono video di imprese eccezionali o pazzesche o temerarie, riprese fatte magari con la GoPro da angoli come dire inusuali per quel tipo di riprese, materiale che nasce per diventare virale. Il buzz marketing, qui si tratta di avere delle notizie di qualità, quindi di alto profilo, che sono o stupiscono l'interlocutore oppure sono molto attese, nel nostro caso lo vedremo, in genere si tratta delle novità con i quali il parco di divertimento inaugura la stagione successiva, ovviamente questo tipo di contenuti genera forte buzz, chiacchiericcio, ma non solo viralità, ma anche chiacchiere sui forum, non solo sui social network. Influencer marketing, qui si tratta di trovare una persona, un opinion leader del settore, tendenzialmente pagarlo e fare in modo di sfruttare i suoi contatti. Queste persone in genere hanno molti follower, sono molto note in certi settori, vengono usate proprio per generare questo tipo di movimento, di buzz. Evangelist marketing, si tratta di trovare delle persone appassionate che non hanno un grande capitale a livello di follower, ma hanno un capitale emozionale, sono persone molto coinvolte nelle cose che facciamo e i parchi per esempio utilizzano queste persone perché pensano che queste persone che comunque sono conosciute dagli appassionati possano generare movimento. Grassroot marketing è quello che usano le onlus in genere, immaginate una onlus che faccia le uova di Pasqua per Pasqua, prende 15 volontari e chiede a loro di fare buzz. Questi volontari alla fine genereranno alcune centinaia, si parlano con gli amici, postano su Facebook, genereranno alcune centinaia di conversazioni ovviamente. Community marketing molto importante nei parchi, ci si infila come gestori del marketing di un parco nelle community, nei forum che ancora sono molto attivi per nicchie specifiche nel nostro settore, sono molto utili ancora utilizzati e si cerca di fornire magari notizie di nascosto in modo che il forum diventi autorevole perché ha le indiscrezioni e quindi si muova qualcosa. Il cost marketing, il parco sposa la causa ambientale, mette i pannelli solari e poi comunica che la sua energia è verde e questo aiuta ovviamente l'immagine. Questi sono i contenuti che vengono postati nei parchi di divertimento, PowerPoint come al solito ci aiuta. Dunque, questo 30.000 visualizzazioni è il video che Mirabilandi ha messo per promuovere Halloween nel 2015, questo è il video di Gardaland della novità 2016, 46.000 visualizzazioni in bassa stagione, il 17 marzo Gardaland era chiuso. Ancora le foto con la mascotte, questo è tipico e ovviamente vengono condivise sui profili social, anche questo fa buzz. Viral marketing con i selfie corner, questo è un selfie corner di un parco Six Flags americano, si crea una scenografia, le persone ovviamente si fotografano e condividono le immagini. Buzz marketing, ecco le novità di Gardaland e di Mirabilandia, questo tipo di contenuti creano ovviamente estrema conversazione. Influencer marketing che diventa marchetta più che marketing, insomma soprattutto se è fatta gratis da alcuni personaggi, si chiamano dei personaggi importanti e poi si comunica che sono stati al parco. Il meet and greet va molto di moda in questo periodo perché rispetto all'influencer marketing ha il vantaggio di portare visite al parco, di vendita di biglietti, perché mentre io ho difficoltà a comunicare che un certo ospite è stato al parco, posso dire invece che queste persone verranno e quindi la gente che le vuole incontrare acquisterà biglietti. Community marketing ovviamente ci si infila nelle fan page non ufficiali del parco per cercare di sviluppare anche lì comunicazione. Concludo con questa frase, ho messo prima la firma perché potrebbe sembrare di Matteo Renzi ma invece di Walt Disney ed è anche molto antica. Da queste parti non guardiamo indietro a lungo, andiamo sempre avanti aprendo nuove porte e facendo cose nuove perché siamo curiosi e la curiosità ci porta verso nuovi orizzonti, detta da una persona che non ha conosciuto il web, se permettete chapeau. Grazie.